Uno degli obiettivi della riforma costituzionale è quello di dare maggiore stabilità all'azione di governo. In effetti uno dei talloni d'Achille del sistema istituzionale italiano è proprio sempre stato quello della durata dei governi. Noi abbiamo avuto 63 governi in poco più di 63 anni di vita delle nostre istituzioni, quindi abbiamo un record negativo, siamo riusciti ad avere fino a 6 governi per ogni legislatura ed è evidente che se un governo non ha una prospettiva di vita di 5 anni ma una prospettiva di vita di 5 mesi o forse di un anno o poco più non potrà sviluppare delle politiche di lungo periodo, non potrà mettere in cantiere delle riforme strutturali ma sarà evidentemente sempre alla caccia del consenso del momento sia all'interno del Parlamento sia con l'opinione pubblica. Allora come fa la riforma a cercare di dare maggiore stabilità ai governi? Lo fa prevedendo che il voto di fiducia, il rapporto di fiducia intercorra solamente tra la Camera dei Deputati e il Governo e non più tra Camera e Senato e Governo. Perché questa semplificazione dà stabilità al sistema? Perché tra gli altri motivi l'elettorato della Camera e l'elettorato del Senato sono differenti perché sono tutti gli elettori che hanno 18 anni nel primo caso e quelli che ne hanno 25 nel secondo caso. Questa discrepanza, questa forchetta fa sì che ci siano circa 4 milioni di elettori in più per la Camera dei Deputati rispetto agli elettori del Senato. Questo significa che nelle due Camere, nei due rami del Parlamento si producono delle maggioranze non sempre coincidenti e quindi il Governo deve andare a negoziarsi una fiducia di un tipo alla Camera e una fiducia di un altro tipo al Senato. Ridurre e, come dire, limitare il rapporto di fiducia ad una sola Camera significa dare al Governo maggiore stabilità. Quindi se tutto funziona il Governo avrà 5 anni di vita e avrà 5 anni per realizzare i suoi programmi prima di ripresentarsi a giudizio degli elettori. È importante sottolineare, perché è uno dei temi sui quali si dibatte spesso anche sui giornali e in televisione, è importante sottolineare che tutto questo non comporta però alcun rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio o del Governo nel suo complesso. Non c'è una sola virgola della riforma che rafforzi i poteri del Presidente del Consiglio. C'è solo un nuovo istituto che viene introdotto, che è quello del voto a data certa, che consente al Governo di imporre alla Camera di esaminare un suo provvedimento entro 70 giorni. Però attenzione, impone di esaminare il provvedimento, non di approvarlo. Quindi la Camera rimane libera di dire sì, di dire no oppure di apportare tutte le modifiche che ritenga necessarie al provvedimento del Governo. E questo nuovo elemento, questo nuovo istituto del voto a data certa controbilancia le limitazioni ai decreti legge che invece sono stati una delle grandi patologie del nostro sistema in questi decenni. Grazie a tutti.